A Roseto, nell'ultimo Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, con l'ente che aderisce quindi alla rottamazione Quater. Si tratta di un aiuto verso cittadini e piccole imprese locali, uno sconto verso quest'ultimi, che hanno maturato nel tempo dei debiti verso l'ente, per esempio multe non pagate e imposte non versate. La misura riguarda i crediti non riscossi che vanno dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e le istanze di adesione dovranno essere presentate entro il 15 ottobre prossimo. Approvazione con i soli voti della maggioranza, opposizione dubbiosa verso questa misura, dopo il parere contabile e negativo da parte della dirigente e revisori dei conti. Si è deciso di recepire un regolamento che è stato previsto dalla legge di bilancio, quindi dal governo centrale, un regolamento che abbiamo ritenuto come maggioranza unita, coesa e coraggiosa, coerente con quello che è il messaggio che vogliamo dare ai cittadini, cioè una pace fiscale non condoni, non aiuta i furbetti, ma dare la giusta possibilità a coloro che vogliono pagare di farlo e quindi non caricare di sanzioni interessi che sono ovviamente qualcosa in più rispetto a quello che deve essere dovuto. Ovviamente questo si è fatto con coraggio, anche con pareri non favorevoli, ma contro deducendoli come il testo unico prevede, tra l'altro avendo grande contezza della possibilità che questo intervento avrà una ricaduta positiva nel rendere meno tossici i crediti del nostro ente, ma soprattutto rendere i cittadini più consapevoli che se tutti siamo partecipanti alla cosa pubblica la cosa andranno meglio per tutti. Sì, come avete annunciato anche che non intaccherà in nessun modo per le casse comunali? Ma in realtà più che annunciare questo abbiamo detto che eventuali, ma solo eventuali, lo diciamo nella parte finale del comunicato, possibilità di disavanzo potranno essere ripianate in uno stile pluriennale, ma d'altronde dobbiamo capire, e questo va fatto anche tramite gli uffici e quali chiediamo di approfondire e non di mettere pareri solamente sulla base di quello che è un tecnicismo puro, in che modo fondo crediti di dubbia esegibilità come altri fondi, ad esempio, potrebbero essere invece decurtati così da non gravare sul bilancio comunale. Quindi più che dare sentenze abbiamo in qualche modo voluto lasciare un'apertura, anche perché noi adesso abbiamo approvato il regolamento, ci sarà una tempistica, si aderirà entro ottobre 2023, verranno istruite entro il 31 12 2023, la prima rata sarà entro il 31 gennaio 2024, quindi è ancora un tutto a divenire e da valutare.